Ciao a tutti, oggi voglio parlare della disciplina e la disciplina viene facendo come dico io e io ti posso adesso oggi farò un suggerimento quasi sconcia per quanto sarà preso da voi male cioè magari come dice ma che sei matta, sì sono matta però devo dire se lo fate dopo una settimana mi ringrazierete perché qual è il mio suggerimento? Mi rendo perfettamente conto essendo madre, lavoratore, studente universitario cioè ognuno ha una giornata piena di impegni, per fortuna io lo so che il mio lavoro è fitness di conseguenza quando dico a qualcuno guarda sto andando in palestra o devo allenarmi o mi devo fare dei video nessuno mi guarda storta perché sa è il mio lavoro allora di conseguenza per molti di voi lo sport diventa un plus, diventa un non plus ultra diventa una cosa che devi inserire tra gli altri impegni della giornata allora vi consiglio oggi di farlo 15 minuti alla mattina e puntare quella sveglia 15 minuti prima la mattina lo so che sembra difficilissimo, sembra impossibile sembra una cosa che sembra veramente da matta però la verità è che noi non ricopriamo il sonno importante la mattina, noi ricopriamo lo sonno appena che andiamo a letto per le prime due cicli del sonno più o meno da mezzanotte alle 3 di mattina così se io prendo quei 15 minuti prima la mattina io ho già cortisolo nel sistema, sto già svegliandomi comunque e se io faccio 15 minuti la mattina mi risveglio, mi sento il fisico che già risponde meglio ho già subito pulito la coscienza perché la coscienza dice wow l'ho già fatta e ti posso garantire che affronterai il giorno in modo diverso io ho allenato una persona per 7 anni 4 volte alla settimana alle 6 di mattina mi svegliavo alle 5.40, andavo a casa sua, prima parte del nostro allenamento era una corsetta nel mezzo del centro di Roma, era strapitoso dove Roma era addormentata, era bellissima poi lo finivo sull'allenamento e alle 6.55, 7, lui andava a lavoro, era un dirigente di banca io tornavo a casa ma avevo tutte le giornate di fronte a me perché comunque un pizzico di qualche cosa ho fatto ogni mattina ti allunga la giornata quando aggiungi 15 minuti all'inizio della giornata così la giornata sembra più piena di cose da fare, riesci a avere più energia, riesci a sentirti più soddisfatto e poi la disciplina viene veramente dopo 5-7 giorni alle 10 giorni diventa uno stile di vita e vedrai che diventa magari anche più facile mettere in movimento in altri momenti della vostra giornata sembra pazzo, sembra come idea pazza lo so, però provate per credere e per mettere un po' di movimento nella vostra giornata